Musica Io trovo che questo evento sia stato un'iniziativa estremamente importante, lo testimonia la presenza di moltissimi investitori. Penso che l'evento sia stato assolutamente azzeccato perché il punto di debolezza dell'AIM è proprio la carenza di investitori fino ad oggi e queste iniziative sono assolutamente da applaudire e da ripetere nel futuro. Musica La nostra società, che come sapere è una società attiva nella consulenza, ha una strategia di sviluppo che sicuramente si basa in parte per la crescita del settore del capital market, d'altro lato per la crescita attraverso l'internazionalizzazione, noi stiamo cercando di uscire dai confini, abbiamo cominciato a lavorare anche in Francia e in Inghilterra e stiamo creando delle partnership importanti negli Stati Uniti e in Latin America. Musica Musica Musica